ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi risponderà ad una domanda che mi fate praticamente sotto ad ogni recensione di power station ma si può utilizzare per alimentare casa riccardo posso collegarla a casa con i pannelli con micro inverter come si fa l'impianto bene ora ne parliamo allora oggi vi farò conoscere un micro inverter un sistema completo che vi permette di accumulare la corrente e di risparmiare in bolletta però c'è un però adesso ci arriviamo perché effettivamente il sistema funziona mi fa davvero risparmiare sulla bolletta perché l'energia del sole viene accumulata e alimentate i vostri dispositivi tutto quello che avete collegato in casa fino ad 800 watt però c'è un però allora io vi consiglio se voi avete già delle power station dell'eco flow e avete dei pannelli di qualunque marca modello tipologia flessibili rigidi da tetto pieghevoli di qualunque tipo è una batteria eco flow quindi una power station con circa 350 euro potete comprare questo micro inverter che vi dà la possibilità appunto essendo intelligente essendo gestibile tramite applicazione di decidere come utilizzare l'energia del sole quindi potete alimentare i dispositivi direttamente perché l'energia arriva al nostro micro inverter e viene distribuita nella rete di casa semplicemente collegando una spina non si deve fare alcun tipo di impianto è un impianto semplice fai da te quindi si collegano due cavi non si fanno fuori in ultimo fare traccia muro nulla di nulla semplicemente collegando dei cavi abbiamo la possibilità di utilizzare il sole in questo modo se vogliamo utilizzarla direttamente prendendo l'energia dal sole oppure possiamo collegarla ad una power station per utilizzarla come batteria d'accumulo e utilizzare per esempio durante la notte durante periodi in cui non c'è ingresso dell'energia solare l'energia che si è accumulata nella nostra power station quindi intelligente gestibile con la presa smart plug possiamo pure vedere tutti i vari consumi sull'applicazione abbiamo tutte le vere animazioni con tutti i vari consumi gli ingressi le uscite insomma molto completa non vi parlerò della power station non vi parlerò dell'applicazione vi farò vedere qualche schermata perché già nei video precedenti che non recensite una marea di power station della eco flow vi ho già fatto vedere l'applicazione non voglio perdermi in dettagli però voglio farvi vedere quello che viene dato in dotazione come si collega e valutare assieme se conviene o no ritorniamo su questo argomento conviene o no se comprate solo la power stream vi conviene al cento per cento perché recuperate in breve tempo praticamente l'investimento se avete già in mente e necessità di acquistare una power station allora aggiungete una piccola cifra e comprate pure questa power stream quindi ancora vi conviene perché comunque questa è una spesa che dovete affrontare perché dovete utilizzarle in esterno come una normale power station finora io ho recensito le power station fine a se stesse quindi nell'utilizzo di trasporto della corrente alternata ovunque oppure di avere un grande accumulo anche per la corrente continua la poi se non serve a questa per poter avere un ups quindi in caso di mancanza di corrente per il black out oppure per poterla trasportare facilmente ma se dovete comprarla e aggiungete questa ancora vi conviene perché la spesa comunque era già messa in conto aggiungete 350 euro vi conviene se avete anche i pannelli meglio ancora altrimenti potete comprare quelli dell'ecoflow o qualunque altro tipo di pannello tutti i tipi di pannelli si possono collegare quindi riuscita comunque a risparmiare se invece comprate il set completo superando i 2000 euro vi metterò tutti i link giù eventualmente qualche fermata ma dai link comunque vedete prezzi aggiornati allora tutto il set completo funziona funziona bene è un ecosistema molto completo che si gestisce tutto l'applicazione però effettivamente al suo posto i soldi si recuperano mai in qualche decina di anni quindi diciamo parlando dell'efficienza del sistema devo dirvi effettivamente funziona parlando della convenienza se scegliete l'ultima opzione dovete valutare voi sicuramente ci vuole un po di tempo però funziona la migliore idea è quella di valutare l'acquisto di questa power stream associata all'acquisto che già volevate fare o se già la possedete ora quindi cambiamo inquadratura e diamo un'occhiata a tutto e allora diamo quindi un'occhiata alla power stream che diciamo il protagonista di questo video perché pannelli solari adesso non posso farvi rivedere pure perché non la utilizzo in questa casa infatti nell'applicazione vedrete tutto nuovo perché l'ho dovuta ri associare all'altro smartphone la utilizzo da un'altra parte con un'altra applicazione in un altro telefono allora questa è la nostra protagonista quindi power stream della eco flow è un micro inverter pesante massiccio fatto davvero benissimo per quanto riguarda l'estetica si praticamente si può mettere in qualunque casa guardiamo qua abbiamo tutte le varie connessioni questa è l'antenna per potersi connettere all'applicazione queste invece sono i va alle varie connessioni e abbiamo anche l'indicazione quindi questa per i pannelli solari questa va alla batteria quindi si collega per poter creare l'accumulo e questo invece a cout praticamente si collega con una normalissima spina asciugo alla corrente di casa l'inserita in una presa posizionata vicino questo invece serve per poterla appendere eventualmente se non volete poggiarla direttamente sulla superficie ma io vi consiglio di tenerla comunque sempre così perché questo micro inverter un po sul riscalda quindi posizionato in questo modo si crea questo ricircolo di aria secondo me è meglio qua avete questa sagomatura come vedete che serve a posizionare un accessorio cioè questo che serve poi per rimuovere premendo le linguette quindi per poter staccare questi connettori allora a proposito dei connettori per i pannelli solari potete collegarne ben due infatti qua abbiamo questi connettori mc4 e qua c'è scritto collettore con pannello solare fotovoltaico 2 fotovoltaico 1 andiamo avanti e vediamo da questa parte abbiamo l'altra connessione ve lascio vedere girandolo così potete capire meglio come funziona e allora questo quindi è il cavo è considerate che per ogni cavo abbiamo una sagomatura sia da questa parte che da quest'altra parte che ci impedisce di sbagliare polarità quindi si può inserire solo in un verso come vedete questa sagomatura ci obbliga ad inserirlo solo in un modo apriamo lo sportellino lo colleghiamo alla nostra power station e già è connesso poi questa è la spina che si collega nella presa di casa e ci alimenta quindi i nostri dispositivi adesso accendo la power station e si accenderà anche il nostro micro inverter quindi si accende la luce nella parte superiore come vedete si è accesa quindi non rimetto al suo posto e ragazzi la cosa interessante di questo micro inverter il fatto che vada direttamente in rete si può fare senza nessun problema perché riconosce il carico se la colleghiamo in una presa di un appartamento dove non c'è corrente elettrica non funziona infatti io posso toccarlo senza nessun problema non prendo la scossa se la collego invece ad una presa riconosce che c'è un carico allora in quel caso interviene e da energia colleghiamolo direttamente ad una presa che ho qua a portata di mano la inserisco ok adesso sta funzionando nella nostra power station dovremmo avere un consumo quindi abbiamo 400 watt in uscita perché sono quelli che ho impostato io dall'applicazione si può impostare quanto deve assorbire dalla battitina accumulo ipotizziamo di essere durante la notte quindi avere pannelli solari collegati ma non avere l'entrata perché non c'è sole quindi praticamente 0 watt in ingresso e 400 in uscita collego pure la solita pistolina d'aria calda nella presa smart che poi vi farò vedere prendiamo quindi l'applicazione e clicchiamo sull'icona della power stream come vedete abbiamo la power stream smart plug e abbiamo anche la power station oltre ad un'altra che utilizzo come ups collegando quindi modem eccetera comunque clicchiamo su power stream come vedete abbiamo 401 watt quindi il consumo quello che abbiamo adesso nella nostra power station ma io posso gestirlo quindi posso andare sulle impostazioni decidere la priorità quindi posso decidere se dare la priorità alla batteria oppure se alimentare casa ma posso impostarlo per esempio a 200 e se ritorno nella schermata adesso o 200 watt posso portarlo al massimo a 800 watt quindi riduciamolo di nuovo 400 circa qua abbiamo la possibilità pure di dare un limite di carica e scarica quindi conviene tenerlo sempre con una percentuale che non sia troppo vicino allo zero come vi ho spiegato anche in altre recensioni delle power station andando ancora indietro andiamo per esempio su smart plug in questo caso abbiamo un consumo zero adesso abbiamo 62 watt 320 watt quindi il consumo di questa pistolina che già conoscete che è sempre 320 watt quindi mi indica effettivamente il consumo corretto e possiamo dare tutte le varie impostazioni quindi sullo spegnimento accensione programmazione eccetera pure qua tutte le varie impostazioni quindi possiamo dare tutti i vari parametri eccetera torniamo ancora indietro questa è la power station l'applicazione con la power station ve l'ho fatta vedere un milione di volte cliccando quindi su spazio abbiamo in questo caso solamente all'animazione del flusso che arriva dalla batteria e che sta alimentando casa non abbiamo altre altri tipi di ingressi perché in questo caso non è collegata con i pannelli solari però qua ho fatto comunque una prova e voglio farvi vedere le riprese pure mentre è collegata ai pannelli solari se io clicco su questa icona o le informazioni riguardanti la generazione attuale proveniente da pannelli solari quindi in questo momento abbiamo 152 watt e l'impostazione massimo condato io 210 watt tornando indietro possiamo cliccare anche sull'icona della nostra presa smart in questo caso abbiamo 375 watt queste invece sono le informazioni che riguardano la power station cliccando su questa icona abbiamo un'animazione del flusso che abbiamo tra pannelli quindi come stiamo alimentando casa clicchiamo sulla stessa e qua abbiamo il dettaglio quindi tutte le varie informazioni con questa animazione molto simpatica che ci fa capire tutti i vari flussi quindi 152 watt che arrivano dai pannelli solari e quindi sto utilizzando questo sistema per alimentare casa mia però possiamo anche cambiare queste impostazioni 400 watt adesso come vedete abbiamo 400 watt anziché i 200 watt di prima se clicchiamo quindi da questa parte come vedete adesso abbiamo 253 watt provenienti dalla power station e 149 watt proveniente dai pannelli solari che vanno ad accumularsi quindi nella nostra power stream e forniscono corrente in casa abbiamo anche altre informazioni quindi in questo momento stiamo ricevendo 400 watt dal nostro sistema e 380 watt dalla rete elettrica e anche in questo caso abbiamo una bella animazione che rende chiarissimo quello che sta accadendo con questo sistema installato adesso diamo un'occhiata a questa smart plug devo staccarla dall'alimentazione elettrica ovviamente quindi non vedrete il led illuminato ma questo questo tastino a un led di colore verde va premuto per poterlo connettere spegnere accendere eccetera e grazie a questa presa possiamo avere un ulteriore dispositivo intelligente che comunica con l'applicazione per i consumi e tanto altro questa è la scatolina e ragazzi per quanto riguarda l'estetica eco flow ci tiene davvero tantissimo a un packaging veramente invidiabile il materiale contenuti ovviamente sapete sono di alta qualità questa invece è un tipo di connessione con mc4 per quanto riguarda i connettori con questo cavo molto sottile che permette di poter passare guardate quanto sia sottile attraverso gli infissi quindi evitare di avere un cavo grosso che non ci permette di chiudere le finestre questo quindi cosa ci consente di fare di avere un impianto che non richieda fori non richieda passaggi particolari di cavi ma semplicemente ci permette di chiudere la finestra perché questo passa tra la guarnizione e quindi si può utilizzare senza nessun problema e anche questo avendo connettori molto diffusi mc4 si può utilizzare con qualunque pannello oppure si possono comprare degli adattatori per poterlo utilizzare poi abbiamo altri accessori per poter appendere il micro inverter e questa è la scatola del micro inverter anche in questo caso packaging perfetto tutto curato molto bene e questa è la confezione vera e propria del micro inverter quello che potete comprare se avete bisogno solo di questo dispositivo altrimenti come vi dicevo poco fa valutate l'acquisto in modo da creare una combinazione di spesa che vi consenta di risparmiare davvero oltre che sulla bolletta perché sulla bolletta comunque si risparmia ma deve essere un investimento calcolato in modo da risparmiare sulla bolletta ma risparmiare anche sull'acquisto quindi un acquisto che sia mirato questo va tenuto in considerazione perché è vero dire che si risparmia sulla bolletta è vero far risparmiare ma va considerato anche l'acquisto guardiamo quindi per bene di nuovo da vicino il dispositivo ragazzi non so come farvi capire il senso di qualità che da tenendo fra le mani è davvero massiccio metallico fatto bene sul riscalda ma non tantissimo ci sono dei momenti in cui sul riscalda un po di più in base a quanto lavora però non è assolutamente così caldo per quanto riguarda i pannelli solari che ho io allora non me li faccio vedere perché ho creato un accrocco con dei pannelli da giardino messo in un balcone che non utilizzo in modo sicuro verso l'interno quindi poggiati su una parete ma un balcone inutilizzato ma quello che non interessa il protagonista di questo sistema dato che come vi ho già detto poco fa secondo me va acquistato in combinazione di un acquisto già preventivato o in caso di presenza già all'interno di casa vostra di una power station di questo tipo che vi serva per utilizzarla sia fuori che all'interno allora può essere un'ottima idea quindi il protagonista è la power stream della eco flow i pannelli sono comunque importanti ovviamente l'azienda vi mette a disposizione la possibilità di acquistarli da loro è la possibilità se non l'avete di acquistare la power station ma questa power steam funziona anche non collegata all'accumulo e quindi semplicemente con i pannelli alimentando direttamente casa sono tutte spese calcoli che dovete fare voi io non vi dirò mai con questa voi non pagate la bolletta probabilmente in base al consumo che avete riuscito davvero a dimezzare ma dovete calcolare le spese quindi l'investimento iniziale come prodotto è validissimo funziona bene nulla da ridire non ho trovato nessuna pecca lo sto utilizzando già da un po di tempo nell'altro appartamento dove consumo in realtà poco quindi diciamo praticamente abbattuto quasi completamente consumi e devo dire che non mi ha dato nessun problema però se fosse comunque un investimento iniziale fatto solo per risparmiare allora ci sarebbe stato da calcolare capire bene come conviene acquistare e cosa conviene acquistare io ve l'ho fatto conoscere se vi è piaciuto fatemelo sapere commentate giù ditemi cosa ne pensate di questo sistema tenendo conto di quello che ho detto fino ad ora quindi link giù nel primo commento nella descrizione se riesco a farmelo dare vi lascerò anche un codice di sconto per comprare sia la power steam da sola che tutto il sistema completo inclusa la smart plug detto questo non mi rimane che ringraziarvi di avere visto il video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al canale mettere mi piace cliccando sul pollice all'inizio cliccate sulla campanella dove esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi video ciao da riccardo ea presto